Come possiamo gestire il grande problema dei costi dell'energia? Hai presente quando si dice che non esiste il miglior momento della crisi per investire? Ecco, per le energie in Italia non c'è momento migliore di questo. Ho quasi 50 anni suonati ed in vita mia non ho mai assistito ad una crisi energetica come quella che stiamo vivendo. L'Italia e l'Europa sono piombate, loro malgrado, in una condizione del tutto nuova, una condizione di risparmio energetico coatto. Per affrontare una crisi del genere è però fondamentale avere un mix di ottimismo e visione, visione del futuro, abbinato all'uso sapiente di marketing digitale e tecnologia. Ecco perché il 13 e 14 ottobre i più grandi fornitori e gestori di energie italiani si troveranno a Ravello, in costiera amalfitana, per parlare di soluzioni e opportunità. E il tutto, cosa della quale vado fiero, sarà moderato da me. Questo è il momento per gettare le nuove basi del futuro, perché è nei momenti di crisi che si scrivono in realtà le cose che verranno. L'evento sarà anche in streaming e quindi spero saremo in tantissimi. Rock'n'roll!